Parliamo della quarta ed ultima stagione di Sex Education. Per prima cosa, per quale motivo io non ho mai parlato di questa serie sul canale? Beh, è semplicissimo in realtà, perché non l'avevo mai vista fino a qualche settimana fa, proprio in funzione di vedere questa quarta ed ultima stagione in arrivo oggi 21 settembre, che ho avuto comunque la possibilità di vedere in anteprima qualche giorno fa, così da poter pubblicare questo video esattamente allo stesso orario in cui gli otto episodi arrivano sulla piattaforma di Netflix. Come sempre, questo video si dividerà in due parti, ovvero la parte senza spoiler iniziale e poi la parte con spoiler verso il finale sarà molto più asciutta, in realtà credo che tutta la recensione sia molto più asciutta in confronto al solito, perché ho poche cose da dire, stranamente, nonostante sia l'ultima stagione di una serie che comunque è diventata famosa negli anni, anche se ripeto comunque io l'ho recuperata solamente adesso, ma comunque, prima di iniziare vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok e X, che una volta si chiamava Twitter, dove ho pubblicato un post spoiler senza contesto dalla quarta stagione di Sex Education, vi sfido a indovinare tutte e quattro le immagini, ma in descrizione c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design per t-shirt, scarpe, zaini, poster, cover, tazze, chi più ne ha più ne metta, davvero tantissima roba, e al momento è disponibile la promo 3x30, prendere tre t-shirt a 10 euro l'una, e dalla terza in poi tutte a 10 euro. Arrivati a 5 t-shirt la spedizione sarà anche gratuita. Ma non è finita qui perché se inserirete il codice ILPENSIERO4 avrete un paio di calze gratis a scelta, quindi scegliete un paio di calze che vi piace e lo riceverete gratis perché inserirete il mio codice ILPENSIERO4. Ma adesso iniziamo con la recensione, ripeto sarà senza spoiler, principalmente, poi mi concentrerò sul finale in qualche dettaglio, qualche spoiler appunto, entrerò più nel vivo della recensione, e primissima cosa di cui voglio parlare generalmente è sicuramente il fatto che questa non mi sembra un'ultima stagione. È confermato che la quarta sarà l'ultima, non ce ne sarà una quinta, almeno non ci sarà una quinta stagione con il titolo Sex Education, se poi vogliono fare qualche spin-off non lo so, anche se sinceramente non so quanto possa attirare uno spin-off, poi dipende ovviamente dal personaggio o dai personaggi a cui è dedicato il progetto, però la quarta è effettivamente l'ultima, con tanto di slogan sui poster, venite con noi l'ultima volta, o in inglese finiamo assieme, comunque tutte queste battute, tutti questi doppi sensi mi fanno morire. Non vorrei concentrarmi sulla serie in toto, perché ne ho già parlato su Instagram, infatti andate a seguirmi anche lì, ripeto, però voglio dire qualcosina, credo che questa sia una delle migliori serie di Netflix, non solo per la produzione in generale, è una serie inglese, ci sono attori di un certo calibro, per esempio c'è Asa Butterfield, che ha lavorato con registi come Martin Scorsese, Tim Burton era il bambino tedesco del bambino con il pigiama a righe, comunque per me questa è una serie davvero ottima, almeno arrivati alla terza e metà quarta stagione, proprio per come tratta il tema sessualità. Certo, sotto una chiave molto adolescenziale, teen, teen drama anche nella maggior parte dei casi, ma lo fa bene, perché da una parte abbiamo appunto Sex Education, dall'altra abbiamo Elite. Per farvi capire, diciamo che alla fine, sì, in Elite ci sono gli assassini, quelle robe lì tutte pazze fuori di testa, che merda, ma anche quello in qualche modo parla di sessualità, solo che lo fa nel modo più sbagliato possibile, invece Sex Education totalmente l'opposto. Poi essendo comunque un prodotto inglese, c'è una grande porzione del prodotto, a sfondo critico comunque, e la critica nella maggior parte dei casi la fa anche bene, ma perché questa quarta stagione non mi ha convinto al 100%, ripeto, per me questa serie mantiene l'asticella della qualità alta, fino a metà tre quarti di quarta stagione. Tutti i problemi secondo me iniziano verso il finale, verso il penultimo e ultimo episodio, che non sono problemi altissimi, però ripeto, non mi ha dato la sensazione di aver visto un ultimo episodio, un'ultima stagione di una serie che dura da, non lo so, non penso quattro anni, perché c'è stato il covid di mezzo, però dura da tanti anni. E questo secondo me potrebbe essere un problema, da un certo punto di vista, perché alcune storyline non vengono nemmeno chiuse, altre sì, hanno un finale un po' raffazzonato, altre hanno una chiusura che mi ha convinto, ma per la maggior parte delle storyline, per i personaggi, ho avuto un po' di amaro in bocca, perché non è il senso buono della frase comunque. Ora, mi sono andato un po' ad informare, ed effettivamente questa è l'ultima stagione, per un ben preciso motivo. Due degli attori principali stavano lasciando il cast, e sto parlando dell'attore di Eric, che è diventato Doctor Who, almeno diventerà Doctor Who, le riprese sono già state fatte, ma la serie ancora non è uscita, e stava abbandonando il cast anche l'attrice di Meave, se non sbaglio si chiama Emma Mekie, o Margot Robbie, a seconda della visuale. E quindi, secondo i produttori, a questo punto portare avanti una serie con una quinta e ultima stagione, senza due dei tre protagonisti, sembrava un po' strano, e quindi hanno deciso di chiuderla alla quarta. Ma si vede che c'è un finale costruito un po' a caso, proprio per dare una conclusione veloce a tutte le storyline. Ed è una cosa che davvero non mi ha soddisfatto. Anche perché dopo aver finito le tre stagioni in binge, attendevo tantissimo di vedere questi otto nuovi episodi. Soprattutto per alcuni personaggi, alcune coppie, provo proprio un senso di insoddisfazione, perché mi sarei aspettato qualcos'altro, o comunque non mi sarei aspettato proprio questa unica scelta che hanno avuto. Ma andando avanti, o meglio, andando indietro, non parlando esattamente del finale, in questa stagione ci viene presentato un antagonista. Non dico Villain perché non è un Villain, però è un antagonista contro i nostri protagonisti. E lui o lei, non ricordo se nei trailer viene svelato, quindi non voglio fare spoiler, all'inizio, soprattutto e per molto tempo durante gli episodi, è veramente antipatico o antipatica. Un personaggio terribile che comunque ha questa caratterizzazione, quindi teoricamente è un personaggio buono. Stessa cosa molti altri nuovi personaggi che sono stati presentati. infatti nel finale della terza, questo posso dirlo se comunque avete visto le altre tre stagioni, la scuola del sesso a causa di non finanziamenti è stata definitivamente chiusa. E tutti i diversi studenti sono andati qua e là in diverse scuole. Infatti ci sono alcuni personaggi che scompaiono totalmente, è una cosa che non ho apprezzato al 100%, perché alcuni di questi personaggi sono stati importanti nelle altre stagioni, e qui totalmente scomparsi. Basta una frase per dire che non ci sono più, ma davvero è strano che almeno uno di questi non compaia totalmente. Però l'importante è che almeno Otis ed Eric sono assieme in questa nuova scuola. Ecco, ci sono nuovi studenti, no, nuovi studenti, ci sono gli studenti di quella scuola già dall'inizio che sono terribili anche loro, ma sono terribili perché devono essere terribili e allo stesso tempo fanno la loro evoluzione andando avanti. Parte della critica di questa stagione si concentra molto sul finto buonismo, sul perbenismo, sull'ipocrisia. E forse avrei messo un po' più il piede sull'acceleratore in questo campo, perché ce n'è poca di questa critica. Avrei preferito qualche battuta in più o comunque qualche momento più pungente riguardo questo tipo di persone. E invece ad un certo punto, non ricordo adesso in quale episodio, c'è proprio un momento totalmente all'opposto. Un momento che dovrebbe essere importantissimo per l'emancipazione di una certa comunità, di un certo gruppo, che però mi ha fatto abbastanza ridere, soprattutto per una gag voluta dalla serie, che ho trovato però molto strana. La scena in sé ci sta anche perché è costruita nei vari episodi, c'è tutto un momento tra due personaggi in un certo luogo che poi farà da scenario per altri due personaggi. Comunque, quel luogo è importante. E porta appunto a questa scena di emancipazione di questa comunità. Però non lo so, ripensando a questo momento, mi viene ancora adesso un sorriso perché sembra buttata lì. Il modo in cui l'hanno fatto, nonostante la costruzione, sembra molto casuale. Nella serie, per la primissima volta, accade una certa cosa che non è mai successa, una cosa naturale nella vita, ma non voglio andare oltre. Dico solamente che in tre stagioni nessuno ha avuto questa cosa. Nessun personaggio... A nessun personaggio è successa questa cosa. Adesso sì. Non dico chi, non dico cosa. Vedrete. È un colpo di scena, quindi non potrei svelarlo adesso. Ne parliamo magari dopo. Ed un'altra cosa succede in realtà per la prima volta in questa stagione. Qualcosa di surreale, possiamo dire, perché finora non era mai successa una cosa di questo calibro. E invece ci viene presentata questa vicenda molto, molto strana che porterà poi all'evoluzione di un personaggio importante e a un altro colpo di scena che comunque avevo abbastanza previsto, visto quello che succede. Tutta questa faccenda abbastanza unirica mi ha un po' disorientato, non sembrava più di star vedendo Sex Education durante quelle sequenze. Però possiamo anche accettarlo perché sì, io non credo esattamente a queste cose, però alla fine una mezza spiegazione viene data. Anche se sto chiudendo entrambi gli occhi in questo momento perché altrimenti avrei detto che è una cagata pazzesca. Tornando velocemente al finale, poi passiamo alla parte spoiler con qualche dettaglio. Quella... posso dire che effettivamente alcune coppie che si sono andate a creare, alcune coppie che non esistono più o ritornate assieme, non lo so, non voglio andare oltre in questo ambito, mi hanno convinto, altre un po' meno, altre invece mi hanno lasciato davvero con, come ho detto all'inizio, con l'amaro in bocca perché mi sarei aspettato tutto tranne che questo. Nel complesso questa quarta stagione non è che non mi sia piaciuta, sicuramente è la minore in confronto a tutte le altre, per quanto mi riguarda, naturalmente questa è una recensione più che soggettiva, però il fatto che non mi sembri per niente un finale me la fa scendere di molto. Ma ragazzi, se ancora non avete visto la serie e la quarta stagione uscite dal video e tornate solamente dopo aver visto gli otto episodi appena usciti su Netflix perché da adesso partiranno gli spoiler riguardo i dettagli e tutti i colpi di scena tutte le cose importanti che finora ho dovuto censurare in qualche modo. Quindi io vi saluto se state uscendo adesso e vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e i link di pampling, codice ilpensiero4 per supportare il mio lavoro e avere un paio di calze gratis a scelta. Come primissima cosa vorrei concentrarmi sulla mancanza di alcuni personaggi importanti. Per esempio Jakob che qui si scopre, qui si scopre, in realtà nel finale della terza si scopre non essere il padre del figlio, della figlia di Jin e in teoria non è sicuro e non viene detto per niente durante la stagione. Dovrebbe essere il tizio della moto, quello lì che compare più volte nella serie. Infatti è un po' un inside joke come roba. però Jin è convinta al 99% che sia lui quindi diamolo per buono e allo stesso tempo però questo personaggio che ritorna il tizio della moto si sta frequentando con la sorella di Jin. Personaggio totalmente nuovo non ricordo se effettivamente venisse detto che Jin ha una sorella minore che ha avuto un passato un po' così non credo non credo per niente però si va a creare questa sorta di triangolo tra questi tre personaggi e io davvero non mi immagino la mancanza di questi personaggi se non dandomi una spiegazione con l'uscita dal cast voluta e magari proprio per questo che non compaiono più non lo so ma andando avanti l'antagonista di questa stagione è O e sarebbe quest'altra terapista che si trova già nella scuola in cui Otis Eric e company arrivano sembra però che non abbia rubato l'idea a Otis che era diventato comunque famoso tutto al contrario sembra invece aver iniziato prima di lui ed effettivamente è così magari hanno anche iniziato assieme ma non sembra lei sembra fare questo lavoro da molto più tempo totalmente in modo gratuito anche ma l'evoluzione di questo personaggio in singolo in primis ci può stare all'inizio parte da come gentile poi inizia a diventare antipatica e poi ovviamente c'è l'evoluzione in positivo tanto che ovviamente c'è anche l'evoluzione della coppia non amorosa tra Otis e O il fatto che lei si faccia chiamare O e lui si chiami Otis secondo me non è a caso per esempio l'episodio dell'ascensore che è quello che contiene la scena lì di emancipazione della comunità disabile comunque di gente in sedia rotella che non può prendere le scale quindi ha bisogno per forza dell'ascensore che è rotto in quella scuola ed è ovviamente l'espediente per far conoscere e fidanzare Amy e il ragazzo in sedia rotella adesso non ricordo esattamente come si chiama il personaggio ma potete scusarmi ma è appunto l'espediente per far conciliare anche O ed Otis le cose che succedono per la primissima volta in questa stagione sono due in primis la morte di un personaggio è la prima volta se non sbaglio è la primissima volta in assoluto che in sex education muore un personaggio primario o secondario che sia perché infatti qui muore la madre di Meave muore per un overdose quindi è ricaduta nel circolo della droga anche il fratello stessa cosa non muore però ha tutto questo problema che fa stare naturalmente male Meave e tutto ciò che succede nella sequenza del funerale qualsiasi cosa davvero personaggi che fanno cose la canzone mi è piaciuta molto quella parte forse la reputo una delle migliori di tutta la serie ora che è finita la serie credo di poter dire che Meave è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto assieme ad Adam che anche in questa stagione ha la sua evoluzione la sua altra evoluzione ma in ogni caso l'altra cosa che succede per la primissima volta in sex education è proprio qualcosa di onirico come ho detto qualcosa che trascende la realtà infatti un episodio parte con Eric che si trova in un punto strano e vede in poche parole Dio poi vede un pesce poi vede Cal che gli chiede se vuole del pane e tutte queste scelte portano il personaggio a ripensare un po' sulle sue scelte soprattutto dal punto di vista religioso non contando che questo potrebbe essere visto come un sogno per monitore visto che sogna di vedere Cal e poi Cal scompare nella realtà perché ha problemi di identità non si sente assolutamente bene nel corpo in cui sta non si sente bene in generale quindi cerca di scomparire magari ha anche pensato di uccidersi visto che ha lasciato tutto però non succede questo anzi viene ritrovata proprio da Eric che ha una visione nella realtà di Dio ripeto è una cosa a cui non credo non crederei mai nella realtà non solo da un punto di vista ateo quale il mio ma ripeto ho deciso di chiudere un occhio e anche l'altro per farmi andare bene questa cosa anche perché appunto poi porta all'evoluzione di Eric ovvero quella di voler diventare pastore nonostante tutto mi sono piaciuti i diversi riferimenti al sogno il pesce che ritorna spesso nella realtà e che porta i ricordi di Eric appunto quel sogno onirico anche la stessa Cal che a un certo punto offre del pane ad Eric cosa che aveva visto nel sogno comunque sarebbe potuta venire meglio se magari non avessero concentrato di più sul fattore religioso sul fattore Dio in terra però capisco tutto visto che il personaggio aveva bisogno di questa evoluzione aveva bisogno di far pace con il suo lato cristiano credente sul finale Otis e Meeve nonostante questa sia tornata per il funerale della madre non tornano assieme lei rimane lontana e lui rimane a casa sua c'è l'ultima inquadratura sulla casa che è comunque suggestiva visto che è partito tutto da lì però sinceramente non mi sarei aspettato questo finale per la coppia non tornano assieme per ora alla fine è un po' aperta come roba anche per i diversi messaggi che vengono vengono trasmessi vengono dati da personaggio a personaggio però non lo so questo elemento forse ha contribuito a farmi sentire quest'ultimo episodio come un non finale di cos'altro potrei parlare del resto forse dei nuovi personaggi presentati qui di questa nuova scuola totalmente emancipata totalmente contro il gossip totalmente contro il bullismo comunque strana è una scuola sbagliata perché se da una parte la possiamo identificare come una scuola buona una scuola totalmente positiva per gli studenti dall'altra possiamo notare quanto effettivamente ci sia di falso in tutti gli studenti la stagione non gioca tantissimo su questo campo non è che critichi così tanto il falso buonismo appunto come ho detto l'ipocrisia di questi personaggi ma qualche amo lo lancia compresa poi l'evoluzione di alcuni di questi personaggi per chiudere dico gli ultimi pensieri vaghi riguardo personaggi e faccende non mi è piaciuto come hanno trattato Ruby in questa stagione soprattutto dopo la terza avrei perdito un qualcos'altro per questo personaggio soprattutto in funzione di Otis comunque la coppia Ruby-Otis non mi è mai piaciuta non la mia ship preferita è quella tra Otis e Meave quindi Ruby poteva starsene dov'era però non mi è piaciuto il modo in cui l'hanno caratterizzata in questa stagione soprattutto ripeto all'enorme evoluzione che aveva avuto nella terza stagione è interessante la faccenda Jean è sorella di Jean che è stata abusata in passato dal fidanzato della madre però potevano entrare più nel dettaglio invece di fare solo un piccolo un piccolo un piccolo specchietto di questa roba durante il podcast durante il programma radiofonico di Jean in cui a cui inizia a lavorare in questa stagione e in realtà credo di poter chiudere qui questa recensione perché penso di aver detto tutto quello che volevo dire non so quanto effettivamente sia venuta asciutta questa recensione perché ho parlato un po' macchinetta forse 10-15 minuti di video non lo so ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Sex Education stagione 4 o in generale della serie se volete tranquillamente dirlo se volete fare spoiler invece contrassegnate il commento con la dicitura spoiler poi lasciate qualche spazio e scrivete lì il messaggio per non rovinare la visione a chi ancora non ha visto gli 8 episodi vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di pampling codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta e supportare il mio canale e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao